BELLA A TUTTI DA PORKMODZ Non riuscivo proprio a giocare Infatti oggi voglio giocare qualcosa di leggero Tipo questi nascondini che Anche se si muore tanto ci dobbiamo divertire Quindi scusatemi Andiamo dai Comunque si è stato creato da Ali Non so se l'ho detto Grandissimo Andiamo guardate che bello Polizia US nascondino La scritta è fantastica Ci sono sempre le mine Sempre aggiornato come avevo detto io Ok Scendiamo da là Aspettate Da qui dovrebbe andare bene Vediamo un po' se atterriamo nella strada Credo di sì Wow Oh mio dio se facevo pure parcheggio Era una clip troppo epica Ok su Adesso dobbiamo andare piano Andiamo Via 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 A parte che adesso sto meglio con l'allergia Stamattina era tremenda Vi giuro raga Non riuscivo a fare niente Niente di niente Ok No No Fermi su Ho sentito una bomba C'è una mina Dove potrebbe essere questa No no che te Oh mio dio L'era saltata Era lì la mina Era lì Aspettate Piano qua E' qui bellissima Questa locazione Grandissimo Ok Ho sentito un'altra mina Però andiamo qua Per sicurezza Eh Vabbè che non è che mi devo nascondere più di tanto Che loro c'hanno solo la mina Ok Sui però pure qua c'è stanno un bel po' di mine per me Oddio dopo lascio No No raga Hanno messo una mina Un'altra No No Eh non potevo fare niente Vi giuro raga Perché se mi muovevo morivo Se rimanevo fermo morivo Quindi Eh vabbè Ripasso Luca Dobbiamo fare attenzione Perché hanno fatto bene a mettere le mine qua eh Perché se qualcuno vuole andare a prendere la mina di prossimità Non può fare nulla Ed è la cosa che faccio dopo io Abbiamo vinto Volevo vedere che succedeva Però abbiamo vinto subito Prossimo round Ok Nuovo round Io mo piazzo 30.000 trappole Non me ne frega niente Dobbiamo fare solo attenzione Che loro non arrivano qua Ok Ne mettiamo una qua Basta che non passano qui eh Una qua Una la mettiamo qua E un'altra Sui 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 Sposta te Non passare qui però sui eh Ok Ok Mi servono solo altre mine Perfetto Qui potevo passare qua in mezzo vero? Credo di sì Ok Ok Adesso Black Lascia un po' di mine Grandissimo Ci dobbiamo nascondere Ci dobbiamo nascondere No raga Aiuto No No Si è suicidato Luca Ok Una la mettiamo qua No 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 Che il cittadino esplode No 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 Ah no Non esplodono col cittadino Perfetto Da quale parte arrivano Sui? Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Aspettate Ok Ok Qui è perfetto Allora Uscite fuori Un'altra Un'altra Per sicurezza No no C'è uno che sta qui C'è uno che sta là Aspettiamo un secondo va Se passano qui Succede il panico Più totale Ok No 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 Stanno a sparare Stanno a sparare Sui 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 Stanno a sparare No 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 Sui 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 No 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 Dove stanno Dove stanno Dove stanno Non lo vedo Non lo vedo regà Aiutami Sui 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 Mi beccano qua Dai che qualcuno esplode Sta passando nella trappola Ok Ronald l'ho fatto salta in aria Però Non so dove sta Io continuo a salterla così Perché Vi giuro che non so Mamma mia Vieni qua sui Se muoio io muoio pure te Se muoio io muoio pure te Ah Esplodi Ok Questa è una buona tattica Oh mio dio Luca ha fatto esplodere Stefi Luca era morto regà Partita vincitore Riavviamo subito L'ultimo round Ok Ho riavviato L'ETS Notte piovoso Proprio Regolari Andiamo 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 Prendiamo un bel po' di pistoletti E andiamo subito là dentro Bisogna trovare una bella tattica Comunque E mannaggia E mannaggia al suino Luca Mannaggia proprio a te Andiamo Via 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 salite Basta trollarmi per favore Guarda Ora mi trolla di nuovo Mannaggia al suino Mannaggia Vai andiamo 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 Aspettate No sui perché sei salito Te volevo trollare E vabbè In caso trolliamo Gay killer Sui Attenzione Andiamo 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 Vabbè Gay killer prende un'altra macchina Mi dispiace sui Anche se io dovrei Trollare Luca Mi sono trollato da solo Ok Eccoci qua Possiamo andare finalmente Ero rimasto trollato A parte che prima sono andato giù Per fare il car boosting Oh Vieni qua Black Faccio più car boosting Di te Vieni qua Ok Guardate Stiamo recuperando Piano piano Eccolo qui Un bel gp Bellissima anche la scritta Sui Che devi fa Che devi fare Andiamo giù qua Vediamo un po' se riusciamo a fare un parcheggio Finito bene Ok Quasi Oh mio dio Rimettiti bene Rimettiti No No Vabbè Finito epico Dai Quasi quasi Se parcheggiavo qua Eccas Luca Tu prima mi hai trollato Diverse volte Mi dicono Diverse volte Mi hai trollato Vieni qua Sui Mannaggia la pioggia Se no da mo' che t'avevo schiacciato Ok Ok Luca Vai attenzione Andiamo Andiamo Stavolta Mi vuoi Ah stanno nel labirinto Ci sono mine Sì Tutti No No Andiamo su Andiamo su Andiamo su Che qua è perfetto Via Oh mio dio Già è esploso Che killer No Non va fatto Ok Loro non hanno le armi Perfetto Oh Oh Vieni qua Sui Vieni qua Che non succede niente Eccolo là Dobbiamo aspettare Il momento Mamma mia sui Ricaricati Ricaricati Aie No uno là Uno Aspettate Aspettate che lo becchiamo Dai 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 Ce lo dobbiamo Cavolo Via 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 Ok Le mine Io vado a prendere una mina Sinceramente Andiamo 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 Perché se gli lanciamo la mina Addosso a loro Nel labirinto Però basta che non hanno messo le trappole Andiamo piano Piano Io non sento niente Non sento ancora niente Ok Basta così Basta così Ok Andiamo 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 Non ho preso nessuna mina Meno male Ok Qua c'è qualcuno No Io faccio proprio così Mi sa Vediamo un po' se arriva fino alla mina Si Se qualcuno passa là dentro Muore Andiamo 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 Lì Lì Regà Esci fuori la testolina Dai Dai Quanti ne mancano due Solamente due Già vedo una trappola là Vedete Ok L'abbiamo tolta Però lui ci può lanciare la mina da giù Come Possiamo fare Ok Vediamo un po' se ci arriva fino alla Non so dove l'ho lanciata sinceramente No idea E' pieno di mine Guardati Luca Dobbiamo fare Molta attenzione qua Ok Qua non ci può lanciare niente Oh mio dio Mi sa No no Si è suicidato Black Tiger No No Non ci voleva Pensavo che era dell'altra squadra Oh 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 Qua c'è un suino Sta là dentro eh Avanziamo piano piano Ok Dove sta secondo voi? Là? Scendiamo un attimo Ok Sta scappando Stefi Basta che non mi suicido eh Qui c'era la mina mia però Si sta scappando Oh mio dio Ho fatto esplodere Stefi Ce l'ho fatta Ha funzionato la trappola Spettacolare Mi sa che abbiamo vinto Eh si No è finita E mo so cavoli Eccolo là adesso Mannaggia sui Proprio adesso Dovamo finire No Mi sa che sta No 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 Ritorno indietro Proprio adesso Dovamo finire doppiettini Proprio mentre doveva fare il potere Vabbè abbiamo vinto lo stesso Comunque Credo Proprio Di sì Ci spariamo l'ultimo potere Che tanto Abbiamo vinto No 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 Spostate sui Spostate Dai 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 No no niente da fare Non ci arriva fino alla lamina No Nulla da fare Sta fa solo i poteri Comunque Grandissimo Grandissimo Dai che strettini a scappare Ultima kill Questa poteva essere buona Vincitore Comunque sia Se vi è piaciuto questo nascondino Può essere polizia Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Saluto tutti questi suini E' bella Grazie a tutti